Rieccoci, buon fine settimana a tutti voi, buon sabato, nuova estrazione questa sera, la quarta del mese di ottobre sarà quella di sabato, più positivi che mai, stavolta per il 68 Bari e Venezia, abbiamo tante condizioni, ve le faccio vedere, utilizzeremo una nuova funzione dell'8++, per farvi vedere, tanti dicono che i sommativi non valgono, non valgono a niente, però a volte i sommativi possono fare anche la loro azione sulle ruote interessate, e vi faccio vedere il motivo, anche il perché, ve lo posso far vedere, pensate che c'era la somma 17 a Venezia, dopo 2-3 colpi ha dato il 17 a Venezia, quindi una somma 17 c'era, è vero, i sommativi a volte possono fare un flop, ma delle volte possono aiutare anche le condizioni, comunque ci andiamo per gradi, prima di passare agli scontrini, che sono davvero tantissimi, ma tantissimi, non mi aspettavo una cosa del genere, dato che avevo dato la previsione, avete visto, non ripreso sempre le stesse cose, perché sennò poi non finiamo più, non mi aspettavo tutti questi scontrini, li vediamo con calma, ma già davanti a noi questo schema dovrebbe farvi riflettere molto, poi, come vi ripeto, andremo a utilizzare l'8++, allora, l'8 a Bari, una cosa che non vi ho fatto vedere, ma avete notato in tanti, l'8 a Bari e il 60 a Venezia, sono gemelli, si chiamano proprio, 68, vedete, ma poi la condizione della lambata contata, 68, già lì per sé, vi posso già dire che la previsione è già potentissima con la lambata contata, più si mettono la somma X2, e più altri sommativi, sia in verticale, su ruota, sia isotopi, ve li faccio vedere tutti, allora, prima andiamo a vedere gli scontrini, giustamente, guardate quanti ce n'è, mamma mia, allora, ragazzi, è inutile che sto lì a parlarvi, perché sono veramente tantissimi, ve li faccio scorrere velocemente, poi c'è anche di mezzo il 90 di Cagliari, che comunque la classifica integrale è stata azzeccata, quindi non è che non si è vinto proprio nulla, i risultati ci sono, vi ripeto, adesso col 68 spaccheremo, perché il 68 vedrete che su Bari e Venezia farà la sua comparsa, quindi non è finita, si riprenderemo con il 68, e quindi cercheremo di portarla avanti con serietà, stavolta la condizione, se succederà magari qualche casino, una volta, non voglio saperne niente, voglio solo portare la condizione per un massimo di 7, 8, 9 colpi, avete visto, è arrivata la condizione all'ottavo colpo, quindi pazienza quello che è stato, però ragazzi, io non mi aspettavo tutti questi scontrini, ve lo dico, è pazzesco, poi vabbè il 90, io devo ancora scaricare tutti quelli con il 90, quindi ce n'è una marea e mezza, veramente ce n'è un bordello, guardate quanti ce n'è, ce n'è una fraconata, allora, come vi ripeto, allora, interverremo anche con l'aiuto dell'8++, mi sono appena sentito con Roberto, allora, ricerca ambi somme distanza, questo è l'8++, quindi andiamo a vedere una funzione nuova dell'8++, perché lo vi dico, ragazzi, ma non c'è solo la funzione della frequenza, delle posizioni, guardate quante ce n'è, se non sbaglio più di 60 opzioni, allora, in questo riquadro, quindi, ricerca ambi somme distanze, schiacciate questo bottone, vi viene fuori quello che potete scegliere, vedete, mettete un numero, quindi, mi sembra che subito il pallino è messo su cerca ambi a distanza 45, voi andate sotto, qua, cerca gli ambi di somma, io ho messo il 17, come vi ripeto, a volte gli sommativi fanno un flop, ma, quello non si può dire, perché guardate, allora, Venezia, somma 17, guardate, ve lo faccio vedere subito, allora, andiamo qui, andiamo qui, dov'è, dov'è, allora, eccola qua, allora, somma, vedete, orizzontale, qua si può scegliere, l'orizzontale e il verticale, ma il verticale dovreste scegliere una ruota dove, quel numero volete che arrivi, quindi, poi faremo il Bari, metteremo Bari con la somma 68 e il Venezia con la somma 68, però adesso, per farvi vedere, 38 e 69 è somma 17, guardate cosa succede, guardate cosa succede, 1, 2, 3, ieri sera arriva 17 su Venezia, quindi non è che poi questi sommativi facciano proprio tanto flop, c'è la somma 17 ieri, eh, sulla nazionale, e quindi potete divertirvi a vedere quali somme, a volte i sommativi aiutano, ve lo dico, eh, a volte no, ma a volte sì, guardate, 17 era preimpostato, guardate, qualche estrazione fa con il 38 e 69, adesso, adesso, guardate, ve lo faccio direttamente qua, cambio la somma, quindi 68 e lo andremo a fare, vediamo innanzitutto in verticale se c'è qualcosina, vediamo un po' se c'è qualcosina su Venezia, no, vedete, vedete come camminano su Bari? mi sembra che c'è la somma su Bari, eh, comunque, beh, andiamo a vedere, allora, già, vedete, c'è la somma Bari, fine settembre, vedete, quindi, somma Bari 68, somma 68 anche a Venezia, siamo gli ultimi di, eh, di settembre, quindi, a Monte, ve lo dico sempre, sempre, a Monte, quindi, estrazioni prima, per arrivare al dunque ora, quindi si scartano delle, delle, delle estrazioni che si possono risparmiare dei soldi, quindi, già, ci sono delle somme, questo già, fa pensare bene, verticale, somme verticale, eccole qua, ruote interessate, andiamo a vedere Bari, perché, voglio, scusate, no, Venezia, giusto, era già Venezia, quindi, la somma 68 che vanno a cadere a Venezia, quindi, noi, andiamo tutto avanti possibile, allora, già ieri sera, c'è una somma 68 a Torino, 6,62, Torino, Venezia, andiamo indietro, somma 68, eccola qua, questa qua è la somma X2, questa qua che prende forza anche dal Bari, vedete come si collegano tutte, è combinazione, dove c'è la somma, fateci caso, arriva proprio l'esito, quindi dell'ambata, quindi, guardate, sono proprio in quinta posizione, anche le posizioni del 68, eh, se noi andiamo indietro ancora, vediamo un po', vediamo un po', guardate quante somme 68 prende il Venezia, vedete, guardate quante somme 68, e ci siamo, adesso andiamo con Bari, andiamo direttamente a Bari, e adesso vedremo le somme 68 in verticale, isotopi per Bari, quindi, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, già, guardate, le nuove somme X2, Bari e Roma, Bari e Roma 68, guardate, di nuovo, di nuovo, Bari e Roma 68, e di nuovo, guardate, poi c'è quello del Venezia, quindi andiamo sempre in verticale, poi, basta, quindi abbiamo sia per Bari, sia che per Venezia, abbiamo le somme 68 a go go, e poi, ovvio, guardate qua, abbiamo lambata contata, micidiale, micidiale, e poi, abbiamo, di nuovo, ruote unite con la somma 68, un'altra cosa, quindi, che vi voglio far vedere, mi raccomando, è questa, Yalolotto++, va di vedere questa funzione, ricerca AMBI, Bari, eccola qua, ricerca AMBI, quindi, qua c'è la distanza 45, poi deciderete anche voi, vedete, potete fare la distanza che volete, distanza 3, distanza 7, distanza 10, qualsiasi cosa, vedete, spuntate qua sopra, e avete gli AMBI in verticale o orizzontale della distanza desiderata che volete fare, questo si esclude, perché una volta che cliccate sopra, andrete a vedere le distanze, ma a me serviva la somma di qualsiasi numero, quindi, somma 17, somma 68, somma canicattì, somma, quello che volete, quindi, questa è una funzione d'oro, io ringrazio molto Roberto, perché, stamattina, Roberto, mi servebbe la somma di quello che mi serve, la lambata, come posso fare? Subito, vai, funzioni, somma e distanze, questa qua davanti, e vi trovate tutto, quindi, cercate gli AMBI di somma, cercate le distanze, impostate in questo quadratino, e poi vi fate sia ruota unica, sia isotopa su due ruote, andiamo avanti, quindi, con la condizione del 68, poi parleremo anche della classifica integrale del 90, è riaggiornata, come vi ho detto, allora avete visto Cagliari, poi Torino, ci ritorniamo, frequenza del 68 di Venezia, frequenza del 68 di Bari, la condizione importante, sentitemi, ascoltatemi bene, allora, il 33, ve l'ho già detto ieri sera, il 33, il 36, anche sulla ruota di Bari, la ruota di Bari e la ruota di Venezia hanno, in simbiosi, il 33 e il 36, e quindi, se volete, anzi, no, che se volete, va giocata, andrebbe giocata anche su Bari, non ho messo Bari qua, perché ve lo dico a voce, l'aggiornamento importante è questo, questo è esclusivamente per Venezia, ma il 68, 33, 68, 36, fate anche gli ambi separati e il terno su Bari, perché proprio il 33, 36 su Bari è spettacolare, come lo ha anche su Venezia, quindi, questi due numeri, specialmente questi, Bari e Venezia, con gli ambi secchi e il terno, e poi, ovviamente, Venezia, ma poi, se volete fare anche il 28, con il 68, tutto a Bari, fate la lunghetta anche su Bari, così com'è, va benissimo, eh, però, per identificare e tentare il terno secco, addirittura, con questi numeri, io direi fare una giocata separata su Bari, con il 33, 36, 68, Bari e Venezia, proprio una giocata separata, 33, 36 e 68, perché questi numeri potrebbero andare a creare un terno su Bari e Venezia, ok? Quindi una giocata a parte con il 33, 36, 68, numeri importantissimi per Bari e Venezia, in simbiosi 33, 36, il 28 solo per Venezia, ma se volete, come ripeto, fare anche su Bari la lunghetta, fatela, quindi qua avete tutto, le posizioni le rivedremo adesso, eccole qua, la posizione in rosso dovrebbe essere la più forte, la posizione in giallo meno forte, qui avete di nuovo le posizioni come il 17, quindi, siamo a due colpi questa sera, 68, Bari e Venezia, non ce n'è per nessuno, questa è una condizione fortissima, somme a go go, somme x2, bellissimi, quinti estratti, ma anche c'è Bari, guardate qua, quindi chiama molto fortemente il 68, poi ne abbiamo una conferma, in teoria, dell'ambata contata con 68, Venezia e Bari, detto questo, avete la condizione, quindi, ok, e vi ripeto, vi straripeto, 33, 36, giocata a parte con 68, anche a Bari, tentare solo l'ambo, il terno o addirittura gli ammi separati, è il terno secco Bari-Venezia, 33, 36, 68, fatelo, perché questa è una condizione fortissima, io non vado a cercare condizioni così tanto per fare, avete visto ieri, ottavo colpo, ci vuole pazienza, moderazione, ma questa è una giocata veramente, anche questa, molto molto forte, quindi vi consiglio, 33, 36, 68, anche a Venezia, passiamo adesso alla classifica integrale del 90 e ci andremo a vedere subito cosa è successo, quindi, allora, arriva a Cagliari, allora come detto, avete visto, quindi, si arrivava a Cagliari, adesso Torino, Genova, Bari, quindi già queste due confermano, il Torino e Bari, già di per sé dovrebbero confermare Torino e Bari, poi il Genova, no, aspettate, il Napoli, Cagliari, no, sto facendo un casino, sì, è arrivato a Napoli, sì, il Napoli, Firenze, attenzione, Firenze è arrivato e quindi non possiamo dire che la classifica integrale, guardate, quindi questo ha portato il Firenze, vi ricordate, siamo a metà settembre, ha portato il Firenze, poi Bari, Venezia, Cagliari, Torino, è arrivato a Cagliari, Firenze di nuovo, ma Roma, poi Milano, Napoli, tutte e due l'ha affiondati questo, ieri sera, prima Milano, Napoli, più Milano, cioè, guardate, questa è arrivata proprio alla grande, allora, poi il Firenze, vedete, Bari, Venezia, Bari e poi Milano, Cagliari, Torino, vedete, questo è il Cagliari, ieri sera, quindi adesso Torino e poi guardate gradatamente cosa è successo da ieri sera, quindi di nuovo Torino, Cagliari, il Cagliari è quello che aspettavamo, poi Genova, Bari, Venezia, lo riconferma ancora una volta e poi Firenze e Roma, ma stavolta Roma, classifica finale del 90, Bari, Roma, Torino e Venezia, eccole qui, eccole qui, le quattro migliori ruote di sempre, è ritornata di nuovo all'attacco alla classifica integrale del 90, abbiamo perso un giro, ma ci siamo rifatti con Cagliari, ma adesso queste sono le ruote veramente fortissime, Bari, Roma, Torino e Venezia, le primarie, allora adesso Bari e Venezia, a seguire Roma e Torino, quindi occhio a queste ruote, Bari, Venezia, Roma e Torino, Venezia, ma tanti mi dicono, mi avete detto, ma posso inserire il 68, posso inserire il 17 ancora Bari, ma certo, quello sarà una cosa vostra, però il 68, se volete integrarlo con il 90, Bari e Venezia, fatelo, col 17 ancora Bari, se volete fatelo ancora stasera, poi vedete voi, quindi non è che vi impedisco di non giocarlo, il 17 ancora su Bari, basta, Bari, Roma, Torino e Venezia, ci siamo, questa è la classifica integrale del 90, avete tutte le posizioni in più controssegnate, sempre quelle più forti e poi dove non c'è più comunque sia di importanza minore, ma di importanza di presenza, quindi attenzione, si classifica, quindi di nuovo il 90 con queste quattro ruote, vi ho detto tutto, però voglio farvi ancora presente questa condizione, 33, 36, 68 anche a Bari, e la lunghetta, fatela comunque a Bari, perché non si sa mai, potrebbe magari arrivare anche al 28, 68, quindi, ma questa 33, 36, 68, fare proprio una cedola a parte con Bari e Venezia, ambo eterno, ma proprio farla a parte, io quello che farò oggi, perché proprio tutte e due le ruote hanno i simbiosi, questi numeri, quindi 33, 36, 68, schedina a parte, Bari e Venezia, ambo eterno, Bari e Venezia, 33, 36, 68, vi ho detto tutto, vi lascio ancora una volta con la classifica integrale del 90, buona fortuna a tutti, probabilmente stasera non ci sarò, sarò invitato, forse, vedremo, non lo so, e quindi, non ci sarò forse per il dopo estrazione, vediamo, va bene? Quindi, buona serata ancora a tutti già da adesso, e buona fortuna, mi raccomando, moderazione, chi è nuovo, mi raccomando, iscrizione al canale, gratuito, almeno una spallata da parte vostra, io faccio tanto per voi, a voi basta veramente pochissimo, per far alzare il canale, mi raccomando, tastino rosso, iscrizione e campanellina. A volte si sbaglia, non si schiaccia la campanellina, schiacciate quella sotto con la barretta inclinata, che vi dà, cioè praticamente non volete le notifiche, e quindi i video arriveranno molto molto in ritardo, quindi, attenzione alla funzionalità dell'iscrizione con la campanellina, quelle con le vibrazioni, le due barrette laterali per la vibrazione, ci risentiamo, buona fortuna ancora a tutti voi, da Marcus è tutto, ciao! Ehi, non dimenticate di iscriverti, ma soprattutto attiva la campanellina, perché facendo così potrai ricevere la notifica dei nuovi video, grazie! 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 Grazie!